Io adesso sono qui e lotto, nonostante le mille difficoltà. Ho degli obiettivi davanti a me e voglio raggiungerli. Vittoria oggi è una donna che non si arrende. Vittoria è una donna che combatterà e lotterà sempre con tenacia e con tanta forza di volontà le sue battaglie, perché la vita è così. Ci presenta i suoi conti ogni giorno mettendoci alla prova. Ci pone davanti a duelli incredibili per vedere quanto coraggio e volontà abbiamo di cambiare la nostra personalità, facendoci tirar fuori tutta la forza che nascondiamo dentro per il semplice fatto che davanti a noi ci sono cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Basta seguire il battito del proprio cuore e guardare la vita sotto un'altra prospettiva. Ho creduto sempre in me stessa e mi sono amata ogni giorno di più, come ho iniziato a fare da quel 22 ottobre 2007. Sto trovando le risposte a tutti i miei perché. Devo abituarmi a pensare all'idea che ai più importanti bivi della vita non ci sono segnaletiche. Devi comunque andare avanti e provare, giusto o sbagliato che sia, devi percorrere la tua strada. La mia vita si compie un passo per volta, giorno dopo giorno, ed è proprio quello che faccio in ogni momento, che mi porta a vivere il domani. È come camminare su un manto soffice di neve. A ogni orma lascio un segno e un'impronta del mio passaggio. Perché in fondo siamo tutti qui a percorrere ognuno di noi la sua strada, che può essere dritta o curva, in discesa o in salita. Ma se troviamo quella giusta, in un modo o nell'altro, ci porterà comunque a una destinazione. Che ci piaccia o no, la vita è questa.